Anche con mia moglie ogni tanto ci litigo, ci mancherebbe. 40 anni però siamo sposati. Walter Alfredo Novellino ha stemperato gli animi così, questa mattina in conferenza stampa al termine di una settimana a dir poco caotica. Alle spalle il secco no a Giacomelli e presunte tensioni con Capitan d'Angelo, chiariti senza induggi, alla vigilia della gara di Coppa Italia contro l'Ellas Verona. Io ho lavorato sette anni con Marotte e Paratici che sono al vertice del calcio italiano. Tantissime volte noi abbiamo cambiato idea nell'ultimo secondo su un giocatore che non mi piaceva, un giocatore che non... E così abbiamo fatto con la mia società quest'anno. Abbiamo discusso su alcuni giocatori e abbiamo preferito ad aspettare. Io sono diretto. Se ho da dire qualcosa ad Angelo, lo dico. Ma per me è lì finita la storia. Non creiamo un caso. Sempre sul fronte calciomercato, pazienza e fiducia per l'arrivo di Riccardo Marchizza. E' una metafora automobilistica per far capire che i soldi risparmiati per lo stesso Giacomelli sono serviti a un rilancio per Morosini. Era e resta l'obiettivo numero uno per la tre quarti e il Genoa, dopo essersi preso a Meonga, è tornato a spingerlo verso l'Irpinia. E' chiaro che noi puntiamo a prendere l'Audi come macchina. L'Audi ci vogliono sei mesi per pigliarla. Allora adesso non pigliamo, aspettiamo un attimino. Dopo tante parole e trattative a parte però, guai a dimenticare che si torna in campo domani alle 20.30 allo stadio Bente Godi. L'Avellino non vuole essere vittima sacrificale e si prepara a confermare in blocco l'undici di partenza opposto al Matera, anche per Chiardemagni, fresco di rinnovo, che potrebbe in ogni caso partire con la squadra e di nuovo alle prese con un risentimento muscolare.